Ciao a tutti pandacorni e pandacorni, come state? Io molto molto bene, è mercoledì 12 dicembre e praticamente adesso sto andando a fare l'open day per la scuola assieme a una mia amica e praticamente adesso stiamo scendendo, dobbiamo cantare, quindi adesso vado e poi ci sentiamo dopo, tra l'altro questo è l'outfit e sono sempre davanti al mio bellissimo albero Ciao ragazzi, allora io sono tornata da un po' dall'open day, praticamente siamo stati tre ore a suonare, è stato divertente ma un po' faticoso, però vabbè alla fine ci siamo divertiti, io sono molto molto stanca quindi adesso vado a lavarmi Tra l'altro mi sono spogliorata la casella di domani perché non ce la posso proprio fare, ho questa bellissima perlina, comunque mi chiederete ma i compiti per domani, compiti per domani siamo giustificati perché appunto siamo andati all'open day quindi non potevamo farli Non so più che dirvi, praticamente siamo molti deluse di una mia mamma dal calendario di Sephora perché nella casellina 12 non è uscito niente e boh, cioè noi credevamo che ci sia qualcosa di carino, qualcosa di bellino ma in realtà non è uscito niente mamma, adesso è qua mamma, saluta Ciao, delusa Vabbè adesso Speriamo quindi nelle prossime scelme Abbiamo finalmente acceso i termosifoni, non so se da voi si dice termosifoni, secondo te Noi diciamo termosifoni, comunque quella, cos'è la Quelli lì Che praticamente si accendono per riscaldare la casa Sono molto 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 caldi quindi ci siamo ben tutti riscaldando, finalmente li abbiamo accesi, adesso andrò a fare la doccia, il calduccio finalmente Perché ci sono i termosifoni e sta iniziando a fare molto freddo, purtroppo l'inverno sta finalmente arrivando, però con l'inverno arriva il Natale Cioè io non ci posso credere che mancano solo 12 giorni al Natale Cioè siamo a... Ah, cioè tipo, sono molto molto happy di questa cosa Comunque mi volevo scusare veramente tanto perché il video di oggi appunto durerà poco Però siamo andati all'open day e quindi non potevo resistere a scuola anche se alla fine ho portato il telefono perché dovevo chiamare mia mamma quando mi doveva venire a prendere eccetera Però non ho potuto vloggare perché comunque siamo stati tutto il tempo a cantare perché cantavamo Avevamo due minuti di pausa, veniva un altro gruppo di famiglie e dovevamo ricantare E quindi appunto abbiamo fatto questo per sette volte e quindi appunto non potevo stare là col telefono Ce l'avevo semplicemente in tasca, poi stavo anche al 10% perché Marika, senza il telefono scarico veramente non è nessuno perché io sempre, ma dico proprio sempre Non sto mentendo il telefono scarico E vabbè però alla fine ho resistito Sono arrivata a casa con il telefono a 3% infatti è sotto carica Finalmente oggi mi voglio vedere full house con mia mamma perché è tipo due settimane che non ce lo vediamo ragazzi Solo che la scuola tra quella o tra quell'altro proprio non ce l'ho fatta Però forse domani le prof consegnano i compiti in classe Quello è geometria e quello è grammatica e sono un po' in ansia però più che altro sono abbastanza sicura di entrambi E sono anche abbastanza felice dell'andamento scolastico perché i voti comunque sono tutti buoni E quindi sono molto felice Comunque dopo questa chiacchierata io vi mando un bacio, ci vediamo dopo Comunque io adoro queste palle fatte così, guarda che bello Vabbè ci vediamo dopo Ciao ragazzi, allora praticamente vi volevo augurare una buona notte Adesso io sto andando a dormire E quindi ci vediamo domani con un altro vlogmas Mi raccomando seguitemi sui miei social Che come sempre trovate giù nell'info box Commentate e condividete Io vi mando un grosso bacio Tra l'altro ho rimesso il mio pigiama, quello lì per uscioso con zanzi Vi mando un bacio Al prossimo video, sayonara